Un trentenne fanese disoccupato e senza precedenti è stato denunciato dagli uomini del commissariato di Fano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, condannato dal giudice per direttissima a otto mesi di carcere con obbligo di risarcimento. L'uomo venerdì della scorsa settimana verso le 15 e 30 si è reso protagonista di un rocambolesco in seguimento per le strade della città durato oltre un mezz'ora ingaggiato con un'auto civeta del commissariato fanese con a bordo due agenti in borghese e che si è sviluppato tra Centinarola, Bellocchi e altre zone di Fano. Il tutto è partito allora quando il trentenne a bordo di un furgoncino Caddy ha pensato bene di saltare in velocità una fila di auto in coda lungo la Flaminia nei pressi della rotonda di Centinarola. Tra le auto pazientemente ad aspettare c'era anche la pattuglia in borghese della polizia che non ci ha pensato su nemmeno un secondo e si è lanciata all'inseguimento dello spericolato automobilista facendosi bene riconoscere con segnali sonori e visibili ed esibendo tanto di paletta d'ordinanza. Ma l'uomo pur accorgendosi che alle calcagne c'era un'auto della polizia non ha minimamente accennato a fermarsi, anzi i tentativi di affiancare il furgoncino da parte degli agenti per bloccare il fuggitivo sono stati ostacolati dal guidatore con manovre spericolate tentando di mandare fuori strada l'auto degli agenti i quali con non poca fatica in una strada del quartiere di Bellocchi sono riusciti a fermare il mezzo ma non è finita qui. Uno dei due agenti ha rischiato anche di essere investito e travolto dal trentenne che per sfuggire alla cattura ha speronato l'auto e tentato di travolgere il malcapitato agente che con prontezza di riflessi però e sangue freddo gettandosi a terra di lato ha schivato il muso dell'auto ma così l'inseguimento è ripreso. Solo l'esperienza e la professionalità dei due agenti ha messo fine a tutto questo senza che nessuno si sia fatto male seriamente in un vicolo sterrato nel quale il caddy è stato bloccato e l'uomo arrestato. Sabato poi c'è stato il processo per direttissima al tribunale di Pesaro dove il fuggitivo sanzionato più volte in passato per violazioni al codice della strada e di recente anche per aver violato più volte le norme imposte dal governo sugli spostamenti per il coronavirus ha subito la condanna del giudice oltre ora a dover risarcire il danno arrecato all'auto della polizia resa inutilizzabile.